E procediamo subito con il nostro secondo ospite, è con noi Nando Dallachiesa. Buongiorno e benvenuto. Allora, Nando, lei è da molti anni impegnato socialmente sia come presidente onorario di Libera che con tante pubblicazioni. La letteratura può essere uno strumento importante per il risveglio delle coscienze? È uno strumento importantissimo e il brano che leggerò credo che potrà spiegare perché è importante la letteratura, perché aiuta a non essere superficiali. Aiuta ad avere attenzione a quello che c'è intorno e a saperlo descrivere con precisione, che è la prima condizione per poter essere, per non farsi trovare disarmati davanti a quello che accade. Quindi è la cosa che per questo reciterò, leggerò un brano di Calvino che fa parte delle sue lezioni americane e la parte sull'esattezza del linguaggio. È una cosa che dico sempre ai miei allievi, lo dico ad allievi più giovani. Perfetto, grazie. Ascoltiamo Nando Dallachiesa. La precisione per gli antichi egizi era simboleggiata da una piuma che serviva da peso sul piatto della bilancia dove si pesano le anime. Quella piuma leggera aveva il nome Matt, dea della bilancia. Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose. Un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato. L'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili. In italiano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese. Icastico, dal greco eicasticos. Un linguaggio il più preciso possibile, come lessico e come resa delle sfumature, del pensiero e dell'immaginazione. Perché sento il bisogno di difendere dei valori che a molti potranno sembrare ovvi? Credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia. Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato. E ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile e, se preferisco scrivere, è perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è necessario per arrivare, non dico, a essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno a eliminare le ragioni di insoddisfazione di cui posso rendermi conto. La letteratura, dico la letteratura che risponde a queste esigenze, è la terra promessa in cui il linguaggio diventa quello che veramente dovrebbe essere. Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l'uso della parola. Una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza. Come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Non mi interessa qui chiedermi se le origini di questa epidemia siano da ricercare nella politica, nell'ideologia, nell'uniformità burocratica, nell'omogeneizzazione dei mass media, nella diffusione scolastica della media cultura. La letteratura, e forse solo la letteratura, può creare degli anticorpi che contrastino l'espandersi della peste del linguaggio. Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste, anche le immagini, per esempio. Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini. I più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi. Immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, come forma e come significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente, come i sogni che non lasciano traccia nella memoria, ma non si dissolve una sensazione di estraneità e di disagio. Ma forse l'inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto, è nel mondo. Anche lo shh fa parte della peste del linguaggio. Anche questo. E infatti, continua Calvino, la peste colpisce anche la vita delle persone. E la storia delle nazioni rende tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio né fine. Il mio disagio è per la perdita di forma che è constato nella vita e a cui cerco di opporre l'unica difesa che riesco a concepire, un'idea della letteratura. Teniamoci questa risorsa, questa grande ricchezza, l'esattezza del linguaggio. Grazie. 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 Grazie.